Benvenuti players al TV Table del Campionato Italiano Pro 2022 Andiamo a conoscere i protagonisti Ciao Roberto da Gorizia Emanuele da Cagliari Danilo da Roma Giovanni da Padova Max da Roma Nicola Provincia Torino e Dread 2021 Andiamo a conoscere il vincitore Amici sportivi appassionati di grande poker ben ritrovati nella Poker Room del Casino Perla da Galvin Maknic e Gian Giamarelli E siamo ai Campionati Italiani 2022 Andiamo a vedere la sintesi del Campionato Italiano Pro La situazione aggiornata in questa sintesi vede Benedetto con 679.000 Dread 485.000 Azic 267.000 Derio 245.000 Onnis 219.000 Mercuri 139.000 Cordeschi 134.000 E Roberti 56.000 Nicola Benedetto da UTG con Asso 4 Folda Folda anche Cordeschi con Donna 4 Giovanni De Rio 8.5 Spilla le sue carte E Folda anche lui E Folda anche lui Thread 10.8 Dai Jack Fold Folda anche Danilo Mercuri con K6 Parola Roberto Roberti da bottone con K2 Sweated Per lui meno di 50.000 Fish e lo short stack del tavolo All in per lui E subito dopo si trova Azic con Asso 7 A Fiori Quindi blocca anche la possibilità di colore per Roro C'è il call Parola Onnis da Big Blind con Jack e 2 Fold E andiamo allo showdown K2 per Roberto Roberti Asso 7 Per Amar Hazic Andiamo a vedere il flop Asso 6-3 Trova subito l'Asso Hazic 6 di Fiori Ed è drawing dead Roberto Roberti River card 4 di picchio Ed è player out Roro Roberti In ottava posizione Sono rimasti in set Cip leader sempre Nicola Benedetto con 678.000 Seguono Dread Hazic Onnis Deriu Cordeschi E fanalino di coda Danilo Mercuri Nicola Benedetto da UTG Con Jack e 9 Folda Cordeschi Fold con 8.3 Fold anche Giovanni Deriu Dread Asso 3 off Da Capoff Reis a 18.000 Che fa foldare Danilo Mercuri Con 8-2 Parola A Dazic Con 4-2 A cuori E c'è il call Emanuele Onnis Da Big Blind Con 7-8 off Completa E andiamo a vedere Un flop in 3-way 3-way pot 7-4-6 Passa in vantaggio Onnis Con la sua top pair E scala incastro Intanto Hazic Cecca Hazic Che trova la bottom pair E 4 quinti di colore Bet 45.000 per Onnis Folda Dread Suo asso 3 off Azic 45.000 per chiamare Deve valutare i 13 out A suo favore Rilancia Azic A 200.000 E adesso la parola Torna di nuovo A Emanuele Onnis Che le mette tutte In mezzo 2-4 a cuori Per Azic 8-7 Per Emanuele Onnis In questo momento È in vantaggio Onnis Jack Di pic Scendono al 30% Le possibilità di Azic Rivercard 10 di quadri E fa double up Emanuele Onnis Dalla Sardegna Altro giro Oltre la corsa Sempre in 7 Sempre chip leader Il campione italiano 2017 Nicola Benedetto Seguito da Dread Onnis Azic Cordeschi De Rio E fine Danilo Mercuri Con soli 7 BB Parola proprio a De Rio Con 7-6 Da UTG Fold Coppietta di 3 Per Dread Da UTG Più 1 Guardate che è il secondo Nel chip count Vediamo come deciderà Di giocare Raise 22.000 E subito All in Di Danilo Mercuri Con 8-8 E subito Dopo ancora Azic Con Asso K Da Katov Amar Azic Reisolin Per Azic Asso 5 Per Onnis Che In quarta posizione Non può far altro Che foldare Folda anche Nicola Benedetto Folda Kordeschi Folda Dread La sua Coppietta di 3 E quindi Andiamo allo showdown Con Mercuri 8-8 E Azic 254.000 Asso K Andiamo a vedere Flop 3-7-2 Tengono gli 8 Di Mercuri Al 72% 9 Di Cuori 86% Per Mercuri Rivercard Donna E Double Up Per Danilo Mercuri Da Roma Sempre Benedetto Chip Leader Con oltre 700.000 Seguono Dread Onnis Azic Mercuri Kordeschi E Giovanni De Rio Che 15 Big Line Kordeschi Da OTG K7 Su Itid Sceglie di foldare Folda anche De Rio Folda Dread E anche Danilo Mercuri Azic K6 Da Bottone Raise 23.000 Di Azic Che porta Il fold Emanuele Onnis E Nicola Benedetto Asso 10 A cuore Da Big Blind Benedetto Risponde con una tribetta 118.000 E subito All in Di Azic E call Di Nicola Benedetto Showdown Andiamo a vedere Il flop 5 8 6 Trova Il 6 Azic 5 Di cuori Risalgono le probabilità Per Benedetto Rivercard 4 Di quadri Ed è Azic A fare Double Up Ai danni Di Nicola Benedetto Altro giro Altra corsa Folda De Rio Dread Fold Mercuri Mercury Fold Azic Jack 7 Rilancia 22.000 Folda Onnis Benedetto Fold Cordeschi Asso 6 E va a farsi in giro Chiama Cordeschi Asso 6 Jack 7 Andiamo a vedere Flop 9 10 8 Trova La scala Azic Check Cordeschi Azic Bet 15.000 15.000 Cordeschi Ha solo un incastro Di scala bassa E un asso alta 1% di possibilità Di splittare 7 di quadri E chiude la scala Cordeschi Che però è insufficiente Contro la scala Al Jack Di Azic All in 95.000 Snap call Da parte di Amar Hazic Solo un Jack Arriver Per dividere il piatto Altrimenti Cordeschi Sarà Player Out Asso di quadri Ed è Player Out Max Cordeschi In Settima Posizione Azic In testa Con 593.000 Seguito a ruota Da Nicola Benedetto E poi Onnis Dread Mercuri E De Riu Danilo Mercuri Con Jack E6 Da UTG La scelta Piuttosto scontata Il fold Asso 9 Per Azic Il nuovo Cip leader Rilancia 27.000 Da Hijack E la parola Va a Onnis Con 7.7 Da Cutoff Si appoggia Benedetto Da bottone Folda E Giovanni De Riu Con K Donna Da Small Blind Chiama Anche De Riu Un pot Un pot di Quasi 100.000 E Dread Con Donna 4 Dovrebbe Aggiungerne Solo 15.000 Da Big Blind E infatti Chiama Andiamo A vedere Il flop 9.6.3 Azic Con La sua Top Passa In vantaggio Ai danni Emanuele Emanuele Onnis Check De Riu Dread Check Azzic Bet 68.000 All Indie Onnis Folda De Riu Folda Dread Azzic Sta contando Lo stack Di Onnis E fa Call Asso 9 Per Azzic 7 7 Per Emanuele Onnis Tan 4 Di Cuori Si Apre Un progetto Di Scala Per Onnis Con Un 5 River Car 2 Ed Emanuele Onnis In Sesta Posizione Sono rimasti In 5 Azzic Sempre più Cip Leader Con 969.000 Lo seguono Benedetto De Riu Dread E Danilo Mercuri Fold Di Nicola Benedetto Parola Dread Con K3 Da Bottone Fold Blind War Mercuri Da Small Blind Si Trova Con Asso 6 Off All in 196.000 Ma Trova Subito Azzic Da Big Blind Con Asso Donna 184 Per Chiamare Chiama Azzic Non Ne Sta Perdonando Uno Asso 6 Per Danilo Mercuri Asso Donna Per Hamar Hazic Andiamo A Vedere Flop 9 7 4 Turner 9 River Card E 9 Ancora Ed Eliminato Danilo Mercuri In Quinta Posizione Rimangono In 4 Sempre Azzic In Testa Con Deriu Benedetto E Dredd A Completare Il Chip Count Ed Eccolo Qui Il Chip Leader Con Donna Donna Da UTG Oltre Un Milione Di Chips Per Lui Raze 31.000 All Indy Nicola Benedetto Con Asso 8 A Quadri Da Bottone Tanto Deriu Fold Da Small Blind Dredd 6 Da Big Blind E Dredd Va All In Azic Non si Tira Indietro All In Anche Per Lui Quindi Olina 3 Good Luck To Everybody 56% Le Probabilità Di Azic Preflop 27 Per Benedetto 18 Per Dredd Andiamo A vedere Flop 3 7 8 Rimane In Vantaggio Azic Con La Sucopia Di Donne Turn 9 Di Cuori Pensiamo alla bilaterale per Dredd che si è aperta al turn Rivercard 2 Di Cuori Ed è una doppia eliminazione per Dredd e Nicola Benedetto da parte di Azic che diventa Sempre più Monsterpot chip leader di questo campionato italiano pro 2022 Sono rimasti in due Azic e De Riu con Azic che ha più di tre volte lo stack di De Riu E tra loro ci sarà il vincitore del bracciale di questo torneo Bottone per Dredd 8000 per chiamare Rilancia 32000 Dredd K Jack per Azic Chiama Amar Azic e si va il flop 589 La scala incastro per il 6 e 4 di De Riu Checca Azic Checca anche De Riu Donna di quadri Azic punta 30 mira De Riu segue con la sua scala incastro Rivercard 2 Di quadri Bet 90.000 Folda De Riu Altro piatto per Azic Niente da fare Azic è sempre più chip leader con 1.752.000 Mentre De Riu 488.000 Rilancia De Riu A 32.000 con 8.5 Azic fa call K10 10.3 Donna Trova il 10 Azic Che passa al 94% di probabilità Intanto checka il chip leader E Giovanni De Riu punta 40.000 Chiama Azic 7 di picche Drawing Dead Già per De Riu Di nuovo checka Azic E Giovanni De Riu punta ancora 70.000 Con 8 alta E fa call Azic Rivercard 4 di fiori Check di Azic E De Riu Bleffa fino alla fine All in 346.000 Non è una decisione semplice Per Amar Azic Che ha la seconda copia del board Contro un avversario Che ha puntato su tre strade E fa call Azic con second per 10 Ed è eliminato Giovanni De Riu In seconda posizione E vince Questa edizione Il campionato italiano pro 2022 Amar Azic Dalla poker room Del casino perla È tutto Un saluto da Calvin Macnice Gian Giammarelli Ciao